Non è un numero di varietà, è l'incontro parigino tra Gilbert Le Duc, campione del mondo, e Manuel. Per quanto si tratti di lotta libera, le iniziative di Manuel, il più giovane dei due, appaiono anche troppo libere. Assistiamo ad un vero e proprio tentativo di far fuori il più corretto e stilisticamente irreprensibile Le Duc. Con un palmo di naso rimane anche il pubblico quando Manuel viene dichiarato vincitore.